Ciao ragazzi, ecco il video del mio National Federale, quasi finito, ma prima devo fare una premessa perché quello che vedrete oggi non è il modo corretto di affrontare una gara e per questo motivo ero molto dubbioso se caricare o meno il video, ma poi mi sono detto sai cosa c'è? Che c'è pieno di cosine che possono essere degli spunti o degli aiuti validi per tanti altri e poi cosa devo nascondere? Il fatto che ho fatto tanti errori? Ma no, non sono assolutamente il tipo. Ci sono delle giornate no e la mia lo è stata particolarmente, ma onore ai vincitori. Raccolgo i coci per capire e imparare meglio degli errori. Penso infatti di poter dire serenamente che questa sia stata la peggior gara della mia vita, ma forse una delle più appaganti, perché è vero l'ho vissuta malissimo per una serie di motivi, ma in realtà sono abbastanza sereno perché ho inquadrato degli aspetti mentali, delle condizioni sulle quali sono carente e che adesso dovrò allenare. D'altronde sbagliare serve a questo in teoria, speriamo. Bene, buona visione, ci vediamo alle prossime gare. A presto, buona visione, ci vediamo alla prossima. Tempo 11.27 Are you ready? Standby! 2.0.1.4 2.0.1.4 Are you ready? Standby! 2.0.1.4 Are you ready? Standby! 2.0.1.4 Are you ready? Standby! 2.0.1.4 If you see this down, load the show clear. If the hammer down, hold them. No. 10. Range is clear. Uno, due, nove, quattro. Ready? Standby! Are you finished? 3.0.3 If three hammer down, hold them. 2.0.6 Let's go! Come on out! Are you ready? Standby! Ah! Ah! Are you finished? Are you ready? If you have a master Regel. 1.0.0.1.0.2 Now you can drive 199. 5.0.2 ough 1.0.1.1.4 Tonic. 2.0.6 1,2,0,7 Vedi? Stand by! 1,2,0,7 Mission load and shot clear Am I now? All set! Ventis clear! Suo tempo 1,9,0,9 Vedi? Stand by! Vedi? Stand by! Run a full time for inner sight Vedi? Stand by! 1, 2, 8, 9 Stasera niente cina per te Molto bene